Amici sportivi e amanti del wrestling, benvenuti su WWE 2K23. Ovviamente sfida uno contro uno con Joseph The Gamer. Ciao a tutti ragazzuoli! Ma sei pronto oggi bro a combattere? Brothers, io sono prontissimo e ho selezionato il mio... Randy Orton! Mentre invece... No, io bro, io sono gasatissimo con il wrestling, grazie a sta. Mentre invece il personaggio che hai scelto tu lo scopriremo tra poco. Non lo diciamo, ragazzuoli. No, 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 no. Allora, prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video. Condivideteli con i vostri amici perché se vediamo un sacco di supporto come l'anno scorso, vi proporremo una serie di video clamorosi. Ma l'hai detto bro, l'hai detto, anzi, create i nostri personaggi ragazzi, così noi li scarichiamo e li utilizzeremo. Esatto, esatto. E soprattutto, quello che creerà il nostro personaggio migliore, magari potremmo anche invitarlo all'interno di un video, perché no? Ma mi sembra una bella idea. Franco, se almeno ci spiega pure come l'ha creato, il background. Esatto. Allora bro, io vado a saltare l'animazione perché oramai sono sul ring, tocca a te. Ma poi lui così, era molto sciallo. Ma adesso è il mio momento, bro. For the rock! La roccia! È lui, è lui, non è lui. Ma Ron e me! Guarda quanto è potente, la sua possenza, la sua stazza bello, bello potente con il suo maori. Ma lo vedi il tatuaggio riprodotto bene? Sì, a bro, ma hai fatto da di, bro, c'è una grafica, bro, incredibile. No, ma hai riprodotto molto bene. Dai, dai, andiamo avanti perché vedo l'ora di menare le mani, vai. Ah, vuoi subito ammazzate? Eh, va bene. Mi spiace, bravo. Allora. Finna qua, Giuseppe! Bum! Ma che fai? Bum! Bum! Ma che sta... Ma sei fattissimo! Sono tutte cose, bro, che ti vorrei fare veramente. Bro, no, no! Calmo, calmo! Bro, ma subito così sei partito. Ma subito, subito da buscare, se... E beccati! Ahia! 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 E mo sei mio! E vieni qua! Ma che ce l'hai detto! Oh! Frai, il culo si faccia, no! Ma sei mattissimo! Oh! Che succede, bro? Bro, che... Sta tremando dalla paura, frazza, ti verrà! Oh! Beccati quest'altro! Frai, non ci riesce più a rialzare. Io me ne vado, quasi quasi, ti vuoi c'era scritto fuga. Allora, vieni un attimo, ti do di... Ma che fa? No! No! Bro! Non ti permettere! Mentre sto incitando il mio pubblico! Oh! Ma hai missato tantissimo! E va a quel paese! Oh, fra, ma io sono sempre a terra, ma... Ma io non c'è... Non ti... Vieni qua! No! Aia! Ma guarda, guarda, come se la riesci a gestire alla grande, sta cosa! Oh! No, no, no! Ma stai fermo! Ma sono sempre a terra! Me ne vado, fra! Te ne vai? Allora arrivo io! Oh, mamma mia, non si riesce a riprendere! Oh! Oh! Rientra, fra! Rientra! Mannaggia, non si riesci nell'angolo! No, fra, non fa... No! E come ci arrivi? Come ci arrivi? Che volevi fa? Ma quest'arbitro perché non si toglie? No, non vengo, non vengo! Vieni! Vieni! Vieni, come sei preparato quel... No, no, no! Egua! Uppela! No! No! Ma non ci... Ma non pensavo che ci arrivasse! Ma è assurdo! Aia! E lasciami! Vieni qua! Aio! Ma porca di quella... Oh! 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 Ah! Boom! Il suplex! Che brochi, fa male? Eh, un pochino... No, forca di gue! Ma che fai? Mannaggia, mannaggia bruttie! Ma tutti sti colpi fatti così! Ma tu comunque ti sei allenato, fra tantissimo! Bro, ma è dall'anno scorso che gioco! Io resto da qua, resto qua, non mi muovo! Ok, vengo io! Oddio! Così! Aiuto! Sì, tutto per dritto! No! Bro! Ma... Bro, io penso che dopo questa... Aia! No, no, scherzavo! Ma non ti si vuol di niente! Ma non ti si vuol di niente! Oh! Sangue! Mattissimo, fra... Ma che fai, te ne vai? Ma... C'è la miseria! Vieni in bocca! Oh, mamma mia! Questo è matto! Oh! Vieni in bocca! No, ma sei scorrettissimo! Vieni in bocca! Arbitro! Ma di qualcosa! Capisco le regole! Oh! Ragazzi! Ma poi hai colpito in testa! Bro, il subliminale è veramente! E... 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 Spondimento! Sono finito! Bro, te... Guarda! 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 Ma non si riesce per... Spadella! Tu proprio sei impazzito, fra! Aiù! E non ti permettere! Mamma mia! Ma guarda! Mi sto così male, drog! No, ragazzi! No! Arco 2, porto! Riprenditi! Via! No! Come faccio a recuperare la roba che c'è lì, fra? Eh... R... L1! L1? Sì! Oh, mamma mia! No, scegli quello che vuoi prende! Ma siamo certi di quello che sto vedendo! No, bro! Ecco qua, così almeno puoi salire al mio livello! Andiamo, forza! Ma che fa... Che fatelo data? No! Oh, mamma! Oh, mamma! Oh! Ahia! E mi dispiace! Vole le becchi tutte! Boom! Bam! Eh, bro! Questa per te è stata veramente un'arma a doppio tono! Mazzaglio! Bam! Mannaggia la madosca! Aiuto! Vieni qua! Uh! C'è mio! No! Oh! Mannaggia! Aio! Uh! Che fa questo? Oh! No! No! No, amico mio! The Rock, no, ti prego! The Rock, ripigliati! No, è fatta, è fatta! Non c'è più il contatto da premere! Ma che è successo? Quell'icona, Fra? C'è il dolore alla testa? No, bro, ci è insanguinato! Grazie! Non so se hai notato! Ilzati! Ilzati! No! Oh! Ma che fai? Sempre gli stessi errori! Ah! E questo non c'è la miseria! E ben acqua! Giuseppe! No! No, bro! Questo che avevo fatto! Oh! Oh, mamma mia! Ma questo sì che gli vengono proprio le brutte crisi! Eccate qui! Eccate qui! Eccate qui! Eccate qui! Eccola! Oh! Ma guarda, guarda i giudici! Ma che stanno a fa'? Aspetta un po'! Aspetta un po'! No, no, no! Vieni! Vieni! Sali, sali! Vieni qua, Giuseppe! Mamma mia, ragazzi! Ma aiutatemi! Vieni, 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 vieni! Andiamo! Il mio Drock, Fra, comunque non ce la fa più! Andiamo, detto! Oh, mamma mia! Andiamo! Alzati, Drock, ti prego! Drock! Non stare così a terra! Vieni qua! Vieni qua! Non mi avrai, non mi avrai! Vieni qua! Oh! 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 No, no, ragazzi, vi prego! Ragazzi, vi prego! Oh! No, ragazzi! Bro, ma ti ha rotto il collo? Io penso che mi stia reagendo malissimo! Io non ho più video, sono finito! Oh! Bruma! Io penso che a breve tocchi chiamare l'ambulanza, Verde Rock! Penso che qualcuno dal pubblico chiama un'ambulanza! Vieni qui! Ragazzi, non è più un gioco, please! Intervenite qualcuno dal pubblico! Chiamate un'ambulanza, chiamate il 911, fate qualcosa! Bro, prego! Io me ne vado, fra, addio! Sali un po', vieni qua! Ma come ti permetto? No! Sali immediatamente e sorrisi... Ma non ti permettere! Aia! Attenzione! Mannaggia! Aia! E va! Drock, riprenditi! No, ti prego, Drock, no! No, 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 non lo fare! Porco! Va bene? No! Mannaggia! Oddio, no! Oddio, no! Oddio, no! Oddio, no! Disturdimento è durato troppo poco! Mannaggia, miseria! No! E ora arriva l'un resto! No! No! No, ragazzi! Ma droga, che c'è fra... Ma come fa? Ancora reagire in minima parte! Uh, bene! Malissimo! Drock, no! Drock, no! Drock, no! Drock, ti prego! Alza! Alza! Drock, no! Di scongiuno, Drock! Mamma mia, ragazzi! Ma non so se umanamente è possibile subire così tante mazzate! Bro, ma... Bro, ti ho... Bro! Io penso che sia il caso di... Di... Di aver Drock, di ritirarsi, di far qualcosa... Oh, no! He's in the line of danger now! No! Uh! Ma proprio disperato! Preparati, Giuseppe! Aia! No! Attenzione! Il comeback! No! Ti prego! Drock, no! Stavamo un minimo recuperando! Mannaggia proprio ti schfon! Drock, addirittura! Preparati, bro! Preparati! È stato bello conoscerti, ma... Preparati! Oh! No! Bro! Non ho finito, bro! No, ti prego! Ti prego, recuperate, Drock! No! Mamma mia, fra! Io penso che questo... Alzati! Ma che cosa è? Alzati! Alzati! Ma che è questa roba? Bum! 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 Bro, ti scongiuro, fa la finita! Oh, mamma mia! No, bro! Ma come faceva? Era velocissimo! Bro, non lo potevo mai chiappare! Perché la sua... Ma, ma... Bro, io penso che lui sia per... 9-1-1! Qualcuno chiami 9-1-1! The Viper! Bro, è simpatico con me, ha iniziato questo video con il sorriso! E non è sta... Bro! Sto conto! Bro! Ma un grande match! Un grande match! Un grande match! Un scontro assurdo! Uff! Eccolo, eccolo! Guarda, guarda! Ma... Mamma mia ragazzi! Che spettacolo Randy Orton! Assurdo! Ragazzi miei, questo è solo l'inizio dei video su WWE 2K23 o 2K23 se preferite! Nei prossimi video che vedrete sul canale di Joseph vedrete un'altra sfida con altri personaggi! Ci vediamo presto! Ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada